Eccoci qua, anche oggi pronti a partire a Friends Bike, pronti per l'avventura, si sale su, siamo partito da Villanova, facciamo vedere qui, Barretto Miramare, facciamo un po' di salita dai, un po' di salita. Siamo... Siamo per imboccare, abbiamo imboccato la gravina, siamo per arrivare ai tornanti, ci sarà il cisternino, capo bello, per un momento, si faccio, ci siamo, ci siamo, ci siamo, per un momento, siamo a una pendenza del 3,5%, ora stacco, a dopo dai, abbiamo finito la gravina, siamo a Caranna, Sì... ok siamo giuti al belvedere di monte pizzuto ragazzi è qualcosa di eccezionale tra un attimo il belvedere ecco a voi il belvedere di monte pizzuto voilà ce l'abbiamo fatto guarda dove stavamo la sua fighissima fighissima guardate che figata capocampana allora che ti devo dire che ne valeva la pena fatica però con la sofferenza ma proprio piccolo c'è una salitella insomma però superata questo spettacolo non si fa non si fa allora siamo strada per lo corotondo fasano eccetera abbiamo fatto con strada marinelli con strada pistone siamo entrati dentro caran che è ragazzi chiamano molto il monte pizzuto come avete visto nelle precedenti immagini ma ragazzi troppo troppo bella la strada qui abbiamo trovato anche gente molto ospitale che ci hanno indirizzato seguito sulle stradine cioè ci hanno fatto da strada stiamo viaggiando a vista stiamo viaggiando a vista stiamo viaggiando a vista pronti a partire eh? sono le 6 e un quarto eh siamo quasi in cima alla selva di fasano bellissimo la salita della selva conclusa ottimo risultato oggi eh? gravina selva e tutto quello il controllo ma ci vediamo per il monte pizzuto e arriviamo su in cima che ci doveva ci vediamo che cosa è? allora caffettino caffettino preso qui siamo sulla selva in cima alla selva al barrettino uno spettacolo di giornata a parte del sole è bellissima ragazzi queste cioè e siamo scesi sulla costa savelletri torre al canne con i french bike questa mattina oggi siamo superati ragazzi guardate che spettacolo è un po' Pettacolo Questa è l'installazione. Questa è l'installazione. Il rifocillamento di Capobello a due chilometri dall'arrivo. Siamo quasi arrivati a Villanova per la conclusione di questo magnifico tour. Vero Capobello? E siamo a quota 83 km. 83-85 chiuderemo ma ne abbiamo fatti una trentina di salite. Quindi insomma per oggi siamo soddisfatti. Seguiteci per altre informazioni ciclistiche. Ciao follower!